Ciao amici della Pallavolo, sono qua col gangster. No, no, rifai con il mio peggio! Rifai! È il bello della diretta, Pablito. E poi abbiamo il nostro principino, che li tiene in Giappone i piedi sul lettino. Brutto, brutto. I piedi in Giappone? Tiene qua in Italia, spalgato. Quando è arrivato... Bambu Natale. Babbo. Babbo Natale. Babbo. Babbo. Babbo Natale. Bambo. No, bambo è bambù. Ma portate che io sia chiamato Bambba Natale. Cos'è? No, non dire. Bambba Natale. Bambba Natale. Cos'è Bambba Natale? Eh, Bambba Natale è... Salute gli amici. Salute gli amici di Babbo. Amici di Bambba Natale. Bambba per Natale. Va bene, la mettiamo, la mettiamo e... No, no, no. La mettiamo, la mettiamo. No, dopo. Poi andiamo in polizia per creare gli amici. Saluta. Cos'è? Che è arrivato alla Powerball è la terza volta che la facciamo. Ma chi è arrivato alla Powerball è... Bambbo Natale. Bambbo Natale. Bambbo Natale. Bambbo Natale. Hai portato Bambbo Natale e Doni a Pesa? Ma che fai... Si o no? Hai portato Regali a Pesa? Ma non sei però un nel petto. Yuki, sto a parlare con te. Si, Greto. Si, Greto. Si.